ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerò i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il parafarmaco ultimata italia vitaltop srl ultimo aggiornamento primo settembre 2022 immagine ultimata italia a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni descrizione e caratteristiche avvertenze allergeni componenti e ingredienti analisi media a cosa serve ultimata italia è un parafarmaco appartenente alla categoria degli alimenti dietetici light è commercializzato in italia dall'azienda vitaltop srl informazioni commerciali titolare vitaltop srl concessionario vitaltop srl categoria di appartenenza alimenti dietetici light forma farmaceutica marmellata confezioni ultimata italia protein cream cioccolato bianco e cocco 250 gr indicazioni utile per la delle cellule dallo stress ossidativo e per normale metabolismo energetico descrizione e caratteristiche crema proteica al gusto di cioccolato bianco con cocco in scaglie e con proteine del latte a basso contenuto di zuccheri e arricchita con vitamina e che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e vitamine b6 e b12 che contribuiscono al normale metabolismo energetico con edulcoranti 30 per cento di proteine senza glutine low carb con vitamine avvertenze contiene tracce di soia e potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio e semi di sesamo contiene polioli un consumo eccessivo può avere effetti lassativi conservare in luogo fresco ed asciutto ea temperatura ambiente l'eventuale comparsa dell'olio in superficie naturale mescolare prima dell'uso allergeni contiene tracce di soia e potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio e semi di sesamo senza glutine componenti e ingredienti proteine del siero del latte isolate 25 5 per cento edulcoranti e ritritolo e mal titolo olio di araclidi cocco in scaglie 10 per cento inulina olio di cocco burro di cacao emulsionante lecitina di girasole aromi mix di vitamine di alfatoco ferrolo acetato vite piridossina hcl vit b6 cianocobalamina vit b12 analisi media informazioni nutrizionali contenuti medi per cento g per porzione 20 g per cento vnr valore energetico 486,7 cal 2044 k i lunga 97,3 cal 409 k i lunga grassi di cui 32 g 6,4 g saturi 14,9 g 2,98 g carboidrati di cui 24,9 g 4,98 g zuccheri 1,1 g 0 e 22 g polioli 22,3 g 4 e 46 g fibre 7,4 g 1 e 48 g proteine 30 g 6 g sale 0 e 54 g 0 e 11 g grassi mct 4,5 g 0,9 g vitamina e 18 mg 3,6 mg 30 per cento vitamina b 6 2,1 mg 0 e 42 mg 30 per cento vitamina b 12 4,4 mcg 0,88 mcg 35 per cento valori nutritivi di riferimento regue 1169 11 20 g pari a 3 cucchiaini fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato pubblicazione dei nuovi video buon sizi Grazie a tutti.